Nei prossimi tre video ci occuperemo di svolgere esercizi dove occorre stabilire il numero di soluzioni di un sistema lineare al variare di un parametro reale k. Gli esercizi che vedremo sono questi. Nel primo caso abbiamo un sistema lineare di due equazioni in due incognite in cui il parametro k compare una sola volta come coefficiente della variabile y. Ci aspettiamo quindi che nella matrice associata al sistema che andremo a scrivere il parametro comparirà una volta soltanto. Nel secondo esercizio invece abbiamo un sistema lineare dove il parametro k compare due volte come coefficiente. Quindi ci aspetteremo che andando a scrivere la matrice associata il parametro k comparirà due volte. Nel terzo caso il parametro k compare una volta come coefficiente, in questo caso della y, e una volta anche tra i termini noti. Quindi ci aspetteremo che il parametro k comparirà una volta nella matrice associata ma anche nella matrice completa, mentre negli altri due casi sulla matrice completa aggiungeremo soltanto dei numeri. La procedura che seguiremo in tutti questi tre esercizi sarà di questo tipo. Come primo passaggio andremo a scrivere la matrice associata. Come secondo passaggio andremo a calcolare il determinante della matrice associata al sistema. Il determinante ci darà un'equazione in k. imporremo il determinante uguale a zero e distingueremo i casi in cui i valori di k annullano il determinante dai casi in cui il determinante è diverso da zero. Per i casi in cui il determinante è diverso da zero concluderemo che per i valori corrispondenti di k che non annullano il determinante la matrice ammette un'unica soluzione, mentre per i valori di k che annullano il determinante faremo ancora un terzo passaggio che sarà quello di considerare la matrice completa, ovvero la matrice che include anche la colonna dei termini noti e andremo quindi a considerare la sua caratteristica.